Era appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa da scuola, quando, mentre attraversava la strada, è stata investita da un'auto. Giorgia Coraini, una studentessa di 15 anni che viveva nelle vicinanze, è deceduta dopo un'agonia durata alcune ore all'ospedale di Parma, dove era stata trasportata in eliambulanza, nel tentativo disperato di salvarle la vita. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po, dove Giorgia abitava con la sua famiglia. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la giovane era in arresto cardiaco. Sono immediatamente iniziate le manovre di rianimazione, che hanno avuto successo nel far riprendere il battito, anche se debole, sufficiente a dare speranza. Trasportata ad urgenza all'ospedale maggiore di Parma, i medici hanno continuato a lottare per la sua vita, ma purtroppo, dopo alcune ore, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando i genitori accorsi immediatamente al suo fianco, nel dolore più profondo. L'incidente si è verificato poco dopo le 14, quando il pullman proveniente da Mantova si è fermato all'incrocio tra la ex statale virgiliana, che porta a Ferrara, e la via della frazione. Giorgia è scesa dal mezzo e ha iniziato ad attraversare la strada, una delle più trafficate della zona, per raggiungere la sua casa dall'altro lato. Quando era già a metà carreggiata, è stata travolta da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Al volante c'era una donna di 26 anni, che non ha riportato ferite, ma è rimasta sotto shock ed è stata poi portata all'ospedale di Pieve di Coriano. Probabilmente la conducente non ha visto la ragazzina fino all'ultimo momento, poiché era scesa dalla porta posteriore del pullman, dove la visibilità era limitata e l'ha colpita in pieno. L'impatto è stato violentissimo e Giorgia è stata sbalzata nella scarpata opposta, a diversi metri di distanza, senza scampo. I tentativi di rianimarla sono proseguiti per un lungo periodo, portando al suo trasporto in ospedale. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto rettilineo con il limite di velocità di 70 km orari.